Bene, proseguendo ancora, un ulteriore incrocio, la strada va a sinistra, tornando per sprenso verso la strada a sinistra del primo trivio, dritta, ma noi non ci andiamo perché è già abbastanza lontana, e a destra, tornando credo verso il Piopeto, la casa che abbiamo visto prima. Noi andiamo a sinistra.